SCP-344 è custodito nel sito in una cassaforte la cui combinazione viene cambiata settimanalmente. Il personale intenzionato ad utilizzare SCP-344 ai fini di ricerca deve contattare il dottor A causa dei pericoli che si possono manifestare quando il dispositivo viene operato, si raccomanda l'utilizzo di un meccanismo con cui azionarlo a distanza. SCP-344 è un apriscatole manuale di marca prodotto prima del 1900. Quando viene utilizzato per aprire una latta di cibo in scatola esiste sempre una probabilità che, appena il coperchio viene alzato, il contenuto edibile venga ripiazzato istantaneamente con esemplari vivi di ciò che essa originariamente conteneva. La montare di materiale vivente rilasciata in questo modo è uguale al numero di individui della specie in esame richiesti per produrre il cibo contenuto dalla latta, a patto che la massa del singolo individuo contenuta fosse non inferiore a 0,8 mg. Ad esempio, se una scatoletta di tonno contiene resti di 50 tonni, dunque un ugual numero di tonni vivi usciranno dalla scatola nel momento dell'apertura. Ovviamente, la compressione di una tale massa all'interno di un così piccolo spazio causa un aumento esplosivo di pressione, con la conseguenza espulsione, a velocità ragguardevoli, del contenuto vivo, potenzialmente ferendo chiunque sia nei dintorni. Gli organismi usciti da una scatola aperta con SCP-344 non presentano mutazioni osservabili rispetto ad esemplari naturali. Nonostante la probabilità teorica che tale fenomeno si presenti sia stata valutata intorno al 50% dei tentativi, gli esperimenti della fondazione mostrano che la reale percentuale si avvicinasse sintoticamente al 30% per gli organismi del regno animale, percento per individui del regno vegetale e per La provenienza degli individui vivi è sconosciuta, eliminando dalle ipotesi la generazione spontanea per mantenere il principio di conservazione della massa dell'energia. L'ipotesi più accreditata è che il materiale vivo sia teletrasportato da particolari luoghi sul pianeta, oppure che Sembra essere l'ipotesi verificata empiricamente. Circa 34 ore dopo essere usciti dalla lattina sopraccitata, negli organismi si manifesta Per questo motivo il materiale vivente deve essere terminato e Prima di dare l'asso di tempo Ciò non avviene nel materiale non animale SCP-344 fu scoperto dal personale della fondazione il 1 febbraio 1900 Grazie alla notizia di un bizzarro evento avvenuto nella cittadina di Il sergente Michael Era tornato a casa dopo aver partecipato alla La madre ha raccontato che egli aveva espresso il desiderio di mangiare carne in scatola e così ne strasse una dalla credenza e si accinse ad aprirla utilizzando un apriscatole che confessò poi aver trafugato come bottino di guerra All'apertura della latta è stato letteralmente schiacciato da una mucca di Kili La gente che allora stava investigando su un altro caso in zona ha agito immediatamente dopo aver sentito la notizia Dopo essere arrivato sul posto ed aver intervistato i testimoni arrivò alla conclusione che l'apriscatole potresse essere la causa della morte del sergente e lo confiscò sostituendolo con una copia SCP-344 è stato custodito nel sito da allora se non si considera l'episodio di La giovenca, liberata dopo l'evento, iniziò a tale avvenimento e le successive indagini furono mascherate come un attacco di vissili Il 5 luglio 1900 Il dottor cercò di aprire una scatoletta di carne di maiale nell'area di riposo comune sul sito utilizzando per errore SCP-344 Il dottor morì istantaneamente per schiacciamento Si indagò sul perché SCP-344 si trovasse fuori dal suo contenimento ma nessun risultato degno di nota emerse Per prevenire ulteriori scherzetti SCP-344 fu spostato da una cassetta di sicurezza ad una cassaforte e la combinazione è cambiata ogni settimana invece che ogni mese 67 tonni ed un delfino nonostante l'etichetta dicesse non contiene carne di delfini volarono fuori dalla scatoletta alla velocità di chilometri orari ferendo gravemente D2856 che aveva utilizzato la priscatola Tutti gli animali sono inceneriti salvo un tonno che viene posto in cella frigorifera Questo tuttavia non evita Dopo tentativi il test viene abbandonato Ci vogliono tentativi prima che l'effetto di SCP-344 si manifesti sulla latta Questo suggerisce che la fenomenologia legata alla priscatola si manifesta con minore incidenza sul materiale non animale Con sorpresa invece di spellere circa 900 fagioli non cotti come i ricercatori si aspettavano la latta emette 324 piante di fagioli danneggiando la stanza in cui si tiene la prova e seppellendo vivo l'operatore di classe D che ha aperto la latta Tutte le piante sono incenerite eccetto una che non come ci si aspettava Il fatto che non ci fossero 914 diverse piante suggerisce che SCP-344 abbia raggruppato i fagioli provenienti dalla stessa pianta Come con T8 sono necessari numerosi tentativi prima del manifestarsi dell'effetto I ciliegi escono a gran velocità dalla latina aperta uccidendo D81634 immediatamente e rendendo impossibile il recupero dei suoi resti Il test è condotto all'aperto e già previene danni al sito O Anche se il recupero delle piante fuoriuscite richiede molto lavoro SCP-344 riporta danni Una delle sue impugnature è piegata a causa dell'impatto Il danno viene riparato Gli alberi non inceneriti non hanno... Dato l'alto potenziale distruttivo delle piante SCP-344 è spostato in una cassaforte di massima sicurezza Il suino è messo sotto sorveglianza in una gabbia distante 3 km dalla camera del test Per l'apertura vengono usati manipolatori robotici Dopo svariati tentativi la fenomenologia di SCP-344 si manifesta Il cinghiale scompare dalla gabbia con intensa emissione in tutto lo spettro elettromagnetico Nello stesso momento nella camera di test si registra l'uscita del cinghiale nella scatoletta ad alta velocità con conseguente impatto sul muro Il danno all'animale causato dall'asportazione della carne sembra essere stato riparato Il personale di classe D viene immesso nella camera con l'ordine di contenere il cinghiale ancora vivo illeso nonostante la collisione Appena fanno il loro ingresso il suino diventa estremamente aggressivo manifestando infine e provocando gravissimi danni all'area di test Ulteriori test con materiale animale sono scoraggiati se non con presenti misure di sicurezza e di neutralizzazione Grazie a tutti Grazie a tutti